mister colantuono il 5 a 2 alla ternana lancia un bel messaggio al campionato il parma c'è c'era già prima ma adesso ancora di più il parma c'è la cosa che mi conforta di più è che sto percependo di avere una squadra compatta unità che ha voglia anche di soffrire oltre che fare che farebbe il calcio diciamo che la fase iniziale di consolidamento rosa perché come ho detto anche inizialmente avevamo tante calciatrici nuove tutta la rosa era completamente nuova lo staff era completamente nuovo c'era bisogno di mettere insieme tante tante situazioni nuove adesso diciamo che questa amalgama questa compattezza la sto percependo e quindi questo mi fa stare un pochino più sereno e sono veramente felice per la prestazione odierna ma anche per le prestazioni poi delle altre settimane perché il parma ha dominato tutte e sette partite che ha giocato meritavamo anche noi forse di essere a punteggio pieno purtroppo non è così e quindi dobbiamo dare qualcosa in più per cercare di recuperare terreno su chi è davanti prima mezz'ora 35 minuti in cui praticamente la ternana non è mai uscita dalla sua tre quarti è stato un gran segno di forza questo per far capire alla ternana che qui non si scherzava segno di gran forza contro una squadra che appunto aveva preso solo un gol in sei partite ne aveva fatti 25 ma il parma è un altro avversario parma è una squadra diversa i calendari spesso poi fanno anche la loro parte detto questo la ternana è squadra forte come avevo detto anche la settimana scorsa dell'ellas verona che ieri poi lo ha dimostrato vincendo 4 a 0 con l'arezzo subito quindi sulla sulla zona alta di classifica abbiamo delle squadre molto forti come la lazio come appunto la ternana lo stesso parma il cesena l'ellas verona sono tutte squadre che possono possono dire possono dire la loro ma in tutto questo c'è anche il parma quindi sono sono veramente contento perfezionista come so che batterà al dente questa settimana sul gol preso all'inizio del secondo tempo ma sì è stata un'ingenuità clamorosa una palla che Fricotto poteva andare a raccogliere prima onestamente la palla non era uscita quindi non c'era il calcio d'angolo poi dal calcio d'angolo è nato questo mezzo contatto loro ovviamente aspettavano solo quello l'arbitro ha concesso subito rigore hanno riaperto la partita poi dopo siamo state brave a fare subito 4 a 1 così l'abbiamo rimesso a posto abbiamo fatto un'altra volta un'ingenuità sul secondo gol subito e poi 5 a 2 l'abbiamo chiusa però ribadisco gli errori sui gol mi tolgono tra virgolette quella perfezione alla prestazione perché è stata una prestazione appunto perfetta e quelle cose le dobbiamo migliorare quindi cercheremo di migliorare anche queste piccole imperfezioni per regalarle un sorriso dagli spogliatoi chiedono il giorno libero domani no domani niente giorno libero il giorno libero è previsto martedì come sempre domani c'è bisogno di lavorare subito forte dobbiamo preparare la trasferta di Arezzo che è molto insidiosa quindi festa fino a stasera a mezzanotte poi dal luna si pensa già alla trasferta di Arezzo facciamo fino a luna magari stasera sì stasera possiamo fare fino a luna anche se alle 8 siamo già al campo quindi io adesso mi vado già a chiudere in casa a preparare l'allenamento di domani a guardare la partita dell'Arezzo però le ragazze si sono meritate questa soddisfazione prima della partita io con loro gli ho detto in questo sport non esistono re ma ci sono principesse e regine e quelle siete voi perché siete le protagoniste assolute di questo sport noi siamo solo a vostro servizio e per tutti gli sforzi che le donne stanno facendo per far imporre questo sport meritano attenzione e soddisfazione hai proprio ragione insomma regine assolute una grandissima determinazione grande agonismo una partita assolutamente perfetta direi dai primi minuti che cosa ti è piaciuto di più in questa gara? ma mi è piaciuta quella voglia e quella determinazione di imporsi di voler far gioco di vincere tutti i duelli di occupare bene il campo di giocare un buon calcio e quindi questi sono i presupposti che poi ti portano a vincere bisogna stare sempre nella partita mentalmente se stai mentalmente sempre nella partita e allora questa è una squadra che può diventare molto pericolosa sul lungo raggio anche se ci sono degli avversari forti appunto come quelli che dicevo prima quindi parliamo di Lazio, Ternana, Verona, Cesena e quindi niente sarà un campionato molto lungo siamo appena alla settima giornata e quindi bisogna alzare la soglia di attenzione bisogna stare sul pezzo bisogna migliorare ancora tanto abbiamo dei margini però c'è una bella squadra adesso la sto sentendo è una squadra viva è presente quindi è un piacere lavorarci quest'oggi Ferin con Gouli insomma Spiridoni due appena entrata in altre gare come nella scorsa in particolare Gago cioè la parola chiave di questo nuovo Parma è sicuramente la versatilità riuscita ad andare in gol ora con grande facilità e insomma con tantissime pedine Sì abbiamo un attacco composto da calciatrici molto forti non interessa chi parte prima o chi parte dopo chiunque stia scendendo in campo dal primo minuto o subentrando sta facendo sempre la differenza e quindi per me è molto facile gestire una situazione del genere perché tutte le ragazze sono sul pezzo si stanno aiutando lo spirito di gruppo si sta consolidando è quella la cosa più importante negli sport di gruppo individualità a disposizione del collettivo altrimenti non si parla di sport collettivo ma si parla di altro quindi principalmente coesione compattezza voglia di aiutarsi questo c'è poi dopo possiamo fare tutti i ragionamenti tattici, moduli, sistemi metodologia eccetera eccetera ma quella è cosa che compete a me come allenatore quindi facciamo i complimenti a queste ragazze che se lo meritano e facciamo i complimenti anche a te perché la forza e la compattezza di questo gruppo è molto visibile si vede si vede veramente scoppia veramente ovunque davvero complimenti grazie mille grazie mille niente speriamo di continuare così e speriamo di vedere sempre più gente allo stadio di Noceta a vedere queste ragazze che stanno appassionando tutti grazie mille